Mentre spesso ci concentriamo sui mostri marini, è giunto il momento di esplorare le meraviglie nascoste dei giganti che popolano fiumi e laghi. Un viaggio attraverso le loro storie svelerà non solo la loro imponenza fisica, ma anche il delicato equilibrio ambientale che rende possibile la loro esistenza. È tempo di gettare uno sguardo oltre l'orizzonte marino e immergersi nelle profondità affascinanti dei pesci d'acqua dolce più grandi del nostro pianeta. Iniziamo subito. Uccio Taimen. Noto anche come salmone siberiano, è molto apprezzato dai pescatori per la sua combattività e dimensioni ragguardevoli, questo salmonide è presente in molti fiumi asiatici, solitamente con un peso di circa 45 chili. Verso la fine degli anni Ottanta, nel fiume Volga, in Russia, è stato pescato un esemplare straordinario lungo due metri e con un peso di poco più di 100 chili. Mantenendo un'ottimistica prospettiva, gli esperti sostengono la possibilità di scoprire altri esemplari di questa stazza. Il luccio alligatore. Nativo dei fiumi del Nord America, si distingue come uno dei più imponenti pesci d'acqua dolce nelle acque americane, raggiungendo una lunghezza massima di 3 metri e un peso di circa 180 chili. Un tratto anatomico intrigante del luccio alligatore è la vescica natatoria direttamente collegata alla gola, consentendogli di respirare aria oltre la superficie dell'acqua. Questa peculiarità lo porta spesso a emergere presso la superficie dei corsi d'acqua. In alcuni stati del Nord America, per preservare la specie, la pesca di questo predatore è soggetta a rigorose leggi regolamentari, a una dieta eclettica che comprende pesci, anfibi, uccelli e mammiferi di piccole dimensioni. La sua abitudine di emergere alla superficie dell'acqua è spesso associata alla caccia di prede che si trovano sopra la linea dell'acqua, rendendolo un predatore versatile e adattabile nei suoi comportamenti alimentari. Il Persico del Nilo è un pesce d'acqua dolce che ha le sue origini nel continente africano. Questa specie è particolarmente notevole per le sue dimensioni impressionanti, con esemplari che possono raggiungere lunghezze superiori ai 2 metri e pesi che superano i 200 kg. La sua morfologia robusta e la potente muscolatura lo rendono un predatore efficace nelle acque dolci. Questa specie è stata introdotta in molte altre regioni del mondo a causa della sua popolarità tra gli appassionati di pesca sportiva. Tuttavia, la sua introduzione ha spesso portato a problemi ambientali, poiché il Persico del Nilo può competere con le specie autoctone e alterare gli ecosistemi acquatici. In termini di impatto economico, il Persico del Nilo è stato oggetto di coltivazione in alcune regioni, contribuendo all'economia locale attraverso l'acquacoltura. Tuttavia, è importante gestire attentamente la sua presenza per evitare effetti negativi sugli ecosistemi. Veramente enorme, vero? Sappi che non è niente rispetto ai primi in classifica che vedremo alla fine del video. L'arapaima, noto anche come pirarucu, è un vero colosso con i suoi impressionanti 4 metri e mezzo di lunghezza e un peso di circa 200 chili. Questo pesce può essere considerato un vero fossile vivente, poiché si stima che la sua nascita risalga a circa 100 milioni di anni fa. L'arapaima è spesso oggetto di caccia con arco e frecce. La sua necessità di risalire in superficie per respirare ogni 15 minuti lo rende facilmente individuabile e questo comportamento è sfruttato dai cacciatori. Con le sue caratteristiche uniche e la lunga storia evolutiva, l'arapaima continua a catturare l'immaginazione di coloro che si dedicano allo studio della vita selvatica. Ti sta piacendo il video? Fammelo sapere nei commenti. Rimani con me fino alla fine perché stiamo per conoscere dei veri e propri colossi d'acqua dolce. E non dimenticarti di lasciare like, iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perderti i prossimi video. Il pesce spatola cinese. Si distingue per la sua grandezza straordinaria, essendo uno dei pesci d'acqua dolce più imponenti al mondo. Con una lunghezza che può superare i 5 metri e un peso che oltrepassa i 300 chili, cattura l'attenzione degli appassionati con la sua maestosa presenza. La sua origine nel fiume Yangtze, in Cina, contribuisce alla sua unicità e il suo muso allungato, che ricorda una spatola, aggiunge un tocco di stranezza e bellezza al suo profilo. Questa specie, purtroppo, è stata dichiarata estinta nel 2020. Pesce gatto del Mekong. Il pesce gatto del Mekong, noto come Jant Mekong Catfish, è una creatura imponente con i suoi 3 metri di lunghezza e un peso che può raggiungere i 350 chili. Questo gigante trova il suo habitat nelle acque fangose del fiume Mekong nel sud-est asiatico. Purtroppo, il pesce gatto del Mekong affronta una seria minaccia alla sua sopravvivenza. Nel corso dell'ultimo secolo, la sua popolazione è diminuita del 95%, portandolo sull'orlo dell'estinzione. Le cause principali di questo declino includono la pesca indiscriminata, la costruzione di dighe sugli affluenti del Mekong e la distruzione delle sue zone di riproduzione. Lo storione cinese. È un'enorme specie di pesce d'acqua dolce. Può raggiungere dimensioni notevoli, con alcuni individui che superano i 5 metri di lunghezza e pesano oltre 450 chili. Questi pesci, dalla forma allungata e dalla pelle ricoperta di scaglie, sono originari delle acque asiatiche, tra cui il fiume Yangtze. Lo storione cinese è noto per la sua longevità e la sua lenta crescita. La grandezza di questa specie contribuisce alla sua importanza ecologica e alla sua storia culturale, poiché il suo caviale è stato a lungo considerato pregiato nella gastronomia. Tuttavia, la sopravvivenza dello storione cinese è minacciata da fattori come la perdita di habitat, l'inquinamento delle acque e la pesca eccessiva. La pastinaca gigante. È una specie maestosa che si estende fino a 4 metri e mezzo di lunghezza, sorprendendo con un peso di 600 chili. Originaria dei fiumi del sud-est asiatico, è molto ambita dai pescatori sportivi ed è rinomata per la sua tenace resistenza e la presunta capacità di trascinare sott'acqua piccole imbarcazioni. Strettamente imparentata con la razza, la pastinaca d'acqua dolce, come la sua cugina minore, dispone di un pungiglione velenoso. Quest'arma, che può raggiungere la notevole lunghezza di 36 centimetri, è avvolta in un muco altamente tossico. Quindi direi che è meglio starne alla larga. La rapaima gigante. Originario dell'Amazzonia in America del sud, questo gigante può raggiungere lunghezze eccezionali, con alcuni esemplari da record che hanno superato i 4 metri e mezzo di lunghezza e 800 chili di peso. La sua morfologia distintiva include una testa appiattita e una squama molto resistente. La rapaima è in grado di respirare aria grazie a una vescica natatoria modificata, consentendogli di sopravvivere in acque con bassi livelli di ossigeno. Non solo la sua grandezza, ma anche il suo aspetto unico, hanno contribuito a renderlo una specie di grande interesse per gli appassionati di acquari e per la conservazione. L'Ostorione beluga. È universalmente riconosciuto come il pesce d'acqua dolce più grande del mondo. Originario delle acque dell'Europa orientale e dell'Asia settentrionale, può raggiungere dimensioni straordinarie. Il più grande esemplare mai registrato è una femmina di 8 metri e mezzo di lunghezza, con un peso di 2 tonnellate. La sua imponenza è attribuita a diversi fattori. In primo luogo, il beluga ha una crescita lenta e può vivere a lungo anche oltre i 100 anni. Inoltre, è dotato di una struttura corporea massiccia, con una testa ampia e un corpo robusto. La sua dieta ricca di pesci e organismi acquatici contribuisce alla sua crescita notevole. Il beluga è noto anche per il suo prezioso caviale, che è tra i più pregiati al mondo. Questo viaggio attraverso i giganti delle acque dolci ci insegna che la grandezza è relativa, ma la preziosità di ogni creatura e il rispetto per il suo habitat sono universali. Preservare l'equilibrio fragile di questi ecosistemi è una responsabilità che ci appartiene, poiché la vera grandezza si riflette nella cura e nel rispetto per il mondo che condividiamo. Anche oggi il nostro viaggio è giunto al termine, ma non sarà l'ultimo. Non dimenticarti di lasciare un like, un commento e di iscriverti al canale se ti è piaciuto il video. Alla prossima avventura!